Ciao ragazzi, ciao amici del canale, oggi approfittiamo di una pausa del maltempo qua in Lombardia e voglio andare in un posto che mi è sempre piaciuto per una domenica pomeriggio, una gitarella senza impegno, al ponte di barche di Bereguardo sul Ticino, tutto asfalto, molto tranquillo anche perché fuori strada per adesso è meglio evitare in quanto è solo ed esclusivamente almeno qui fango e ieri ne ho avuto una prova con un'uscita in mountain bike, quindi ponte di barche di Bereguardo. Le ultime due volte che sono stato qui il Ticino era completamente in secca e quindi le chiatte erano sempre ovviamente appoggiate sul fondo e voglio tornare proprio perché sono curioso di vedere il livello dell'acqua e vedere insomma il ponte che finalmente si alza. Qui siamo a Bereguardo, seguo le indicazioni per il fiume Ticino, mi pare che sia uno dei 4 o 5 ponti di barche presenti sul fiume ed è datato di epoca viscontea, poi successivamente fu fortificato perché ho letto che segnava il confine tra il regno del Piemonte e l'impero austro-ungarico e successivamente nel tempo le chiatte vennero sostituite, insomma resiste al tempo, è un sistema geniale e ogni tanto mi piace arrivare fino qui, è vicino Milano, guardate la campagna intorno, che bello ed è un giro così per una domenica pomeriggio come ho detto. Tante moto anche qui, e natura rigogliosa, guardate che bello, qui c'è un punto di ristoro, oggi è una giornata fantastica e qui dovremmo essere, anzi siamo arrivati e attraversiamo il ponte di barche. Il fiume è pieno di acqua, guardate che meraviglia, livello altissimo, le chiatte galleggiano finalmente, la gente prende il sole, il ponte è un po' mal ridotto con queste laniere, si va piano piano, ma guardate la meraviglia! Il fiume è bello pieno, ed eccoci, piano piano! Allora ragazzi, lo abbiamo attraversato in moto, adesso lo attraverso a piedi e poi ve lo faccio vedere in tutta la sua bellezza, perché finalmente il fiume è pieno e quindi, insomma, è stupendo! Questa macchina medita Rispetto all'anno scorso sembra un altro posto Veramente una figata camminarci sopra, si sente il movimento del fiume e il panorama merita davvero ed è vicinissimo alla città, quindi ideale per una gita come adesso I colori del fiume sono meravigliosi Questo è uno dei piloni dove sono assicurate le chiatte, vedete? Da qui si vede bene Questo è il ponte E girando nei sentieri qui intorno, la meraviglia di una casa galleggiante Ecco, come alternativa mi andrebbe molto molto bene Bene ragazzi, un'idea per una gita come ho detto facile, in un posto che secondo me merita Ci vediamo al prossimo video, spero per giri e viaggi più importanti Mi raccomando, sempre in sella, sempre in moto Ciao 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 Ciao